che stanno sulla costa, perché pochissimi stanno sulla costa, la gran parte non stanno sulla costa, stanno per tutta, in paesi del Rotempo, per cui quelli che stanno sulla costa pur la sera esti non si vienono gelati a costorevo, ma uno che sta a Castella Fiume e appunto, e fa, quindi la gran parte di questi abilani spazzagliati non stanno sulla costa, stanno molto peggio sulla costa perché stanno in paesi di montagna dove non succede assolutamente niente, quindi comunicativamente io metterei di dire questa cosa della costa, perché è il peggio della costa.